Avevamo concluso il video precedente dicendo che il generale di Resco Ludendorff cerca di approfittare del momento favorevole e anticipando l'arrivo delle truppe statunitensi mette in atto una nuova fulminia e imponente offensiva a Occidente. Possiamo procedere. Per poter utilizzare tutte le truppe disponibili stipula una pace definitiva anche con la Romania e per assicurare quanto più possibile un supporto logistico alla sua offensiva fa occupare gli immensi campi di grano dell'Ucraina incontrando pochissima resistenza. Il 21 marzo del 1918 le truppe di Ludendorff attaccano le posizioni britanniche sulla Somme, rompono le linee nemiche e avanzano rapidamente nelle retrovie catturando 90.000 prigionieri e 1.300 cannoni, annientando l'intera quinta armata britannica e causando 212.000 tra morti e feriti nelle truppe anglo-francesi. Allo stesso modo però l'esercito tedesco registra 239.000 perdite tra ufficiali e soldati con alcune divisioni ridotte alla metà dei loro effettivi. Nel tentativo di replicare questo successo, Ludendorff lancia una serie di assalti in altre zone del fronte. In aprile i tedeschi sfondano le linee britanniche vicino a Ypres, in maggio guadagnano altro terreno attaccando i francesi tra Suasson e Rez e in giugno attaccano le posizioni francesi davanti a Compiegne, azione che però fallisce in pochi giorni. Il 15 luglio l'esercito tedesco attacca sulla Marna, ma già a inizio agosto il suo slancio si esaurisce. Pur a un soffio dalla vittoria i soldati sono esausti e, indeboliti dalle gravi perdite, fermano la loro avanzata. Nel frattempo quasi un milione di soldati statunitensi erano arrivati in Francia a dar man forte agli alleati. Sul fronte italiano intanto, il 15 giugno del 1918, l'esercito dell'impero attacca con 66 divisioni nella battaglia del Sostizio o seconda battaglia del Piave, che dura dal 15 al 23 giugno dello stesso anno, ovviamente del 1918 e che vede gli italiani resistere all'assalto. Gli austro-ungarici non sono a quel punto più in grado di continuare la guerra. L'impero è infatti a un passo dal tracollo, sia dal punto di vista economico sia sul piano sociale, incapace di governare un agglomerato di stati di quella vastità, molti dei quali sull'orlo della rivoluzione. L'Italia, cercando di sfruttare questa situazione, anticipa di un anno l'offensiva prevista per il 1919, per impegnare le riserve austro-ungariche e impedire loro ulteriori avanzamenti sul fronte francese. L'offensiva italiana parte il 23 ottobre da Vittorio Veneto e prosegue rapidamente in Veneto, Friuli e Cadore. Il 29 ottobre del 1918 l'Austria e Ungheria si arrende e il 3 novembre a Villa Giusti, presso Padova, l'esercito dell'impero firma l'armistizio. La capitolazione dell'Austria e Ungheria scopre il fronte sudorientale della Germania, dove dilaga la rivoluzione alimentata anche dalla riluttanza del Kaiser, Guglielmo II ad abdicare. L'offensiva alleata infligge così una serie di sconfitte all'esercito tedesco, le cui truppe iniziano ad arrendersi in numero sempre crescente. Quando gli alleati infine rompono il fronte, la monarchia imperiale si dissolve e i due comandanti supremi, Hindenburg e Ludendorff, dopo aver tentato in vano di convincere il Kaiser a combattere a oltranza, si fanno da parte. L'11 novembre del 1918, in un vagone ferroviario nei boschi vicino a Compiègne, in Piccardia, i delegati tedeschi firmano l'armistizio che segna la fine dei combattimenti della prima guerra mondiale. Nel conflitto persero la vita circa 24 milioni e 500 mila uomini. Il bilancio per l'Italia è di oltre 650 mila morti e un milione di feriti. Il 18 gennaio del 1919 si apre la conferenza di pace di Parigi, nella sala dell'orologio del Quai d'Orsay, sede del Ministero degli Esteri francese. Le negoziazioni, con alcuni intervalli, dureranno oltre un anno e si concluderanno il 21 gennaio del 1920. Il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson cerca, con poca fortuna, di ispirare i negoziati con i suoi 14 punti, la cui applicazione, secondo lui, avrebbe risolto sia il problema dell'assolutismo e militarismo degli imperi centrali, sia quello dell'internazionalismo leninista, usando il principio di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli nello stabilire le nuove frontiere. E con veloce chiarimento, l'allocuzione 14 punti indica un discorso pronunciato dal presidente Wilson l'8 gennaio del 1918 davanti al Senato degli Stati Uniti, discorso che contiene i suoi propositi in merito all'ordine mondiale, seguente alla Prima Guerra Mondiale, basati appunto su 14 principi base. Wilson capisce ben presto che il suo programma non verrà seguito dagli altri vincitori, in quanto si trova a competere con questioni molto dedicate e molto radicate nella storia europea. Ricordiamo le componenti nazionalistiche nei Balcani, la necessità di creare stati cuscinetto contro la Russia bolshevica, le rivendicazioni italiane sui territori slavi e le rivendicazioni e i risentimenti che i francesi covano nei confronti dei tedeschi fin dall'epoca napoleonica. In un incontro con Wilson il 14 dicembre del 1918 il presidente francese Raymond Poincaré esprime con grande chiarezza l'obiettivo che la Francia si poneva per la conferenza di pace, ossia, con parole sue, punire la Germania per tutto quanto aveva fatto, con e durante la guerra. Nonostante Wilson sia convinto che una dura punizione avrebbe finito per danneggiare gli sviluppi democratici che in quel momento il popolo tedesco stava faticosamente cercando e costretto ad accettare la posizione francese. Le questioni più importanti e le risoluzioni pratiche vengono trattate dal cosiddetto Consiglio dei Dieci, formato dai cinque capi di governo e dai cinque ministri degli esteri delle maggiori potenze vincitrici, quindi Stati Uniti, Italia, Francia, Gran Bretagna e Giappone in rappresentanza dell'intero Oriente. Il nuovo assetto politico e geografico dell'Europa viene invece discusso esclusivamente dai rappresentanti degli Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Italia. Il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson, il primo ministro francese Georges Clemenceau, il primo ministro britannico David Lloyd George e il presidente del Consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando, coadiuvati dai ministri degli esteri. Sidney Sonnino è quello italiano. I paesi vinti, esclusi dai negoziati, vengono ammessi solo nella fase conclusiva, quella della consegna e firma dei protocolli. La Russia, che per tre anni aveva combattuto a fianco delle potenze dell'intesa impegnando duramente la Germania, non viene esclusa completamente, ma viene stabilito che le modalità di partecipazione ai negoziati, citiamo direttamente, saranno fissate dalla conferenza nel momento in cui esaminerà gli affari russi.